Assessore Masci, il recente decreto sulla spending review introduce delle modifiche all'associazionismo comunale. Quali saranno le scadenze? La normativa nazionale da tempo si occupa dell'associazionismo comunale. In particolare la norma sulla spending review ha previsto che i comuni fino a 5.000 abitanti si associino entro il 1 gennaio 2013 per svolgere tre funzioni fondamentali e dentro il 1 gennaio 2014 per svolgere cinque funzioni fondamentali. Questo perché è necessario contenere la spesa ma nello stesso tempo è importante dare servizi migliori ai cittadini. In questo contesto quale sarà il ruolo politico della Regione? La Regione già si è mossa determinando otto macroambiti entro i quali i comuni dovranno associarsi e questi macroambiti sono stati scelti per omogeneità di territorio, omogeneità economica ed omogeneità sociale. In concreto quale supporto operativo e organizzativo darà la Regione ai comuni? La Regione attiverà laboratori territoriali alla presenza di esperti del settore dell'associazionismo per fare in modo che i comuni abbiano tutto il supporto organizzativo, giuridico e finanziario per avviare le unioni dei comuni o le convenzioni per svolgere i servizi e le funzioni in forma associata. Questi laboratori si svolgeranno il 25 luglio a Pescara per i comuni del Pescarese e il 26 luglio a Teramo per i comuni del Terramano in provincia di Teramo e nella Regione a Pescara. A seguire ci saranno altri laboratori tematici per i comuni della provincia di Chieti e per i comuni della provincia dell'Aquila. Grazie. 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 Grazie.